buongiorno e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo vlog allora siamo ancora nel letto pia si è appena appena svegliata ha già preso un po di coccolini ci alziamo lì ci sono delle cose da levare oggi tanto per cambiare devo mettere in ordine adesso mi prendo cura di pia e noi ci riaggiorniamo più tardi dopo allora pia pronta lavata pettinata vestita pulita i pantaloni sono gli stessi ma tanto sporca le cose la velocità della luce e adesso lei si mette a giocare a fare dei disegni quello che vuole e io mi metto a stirare anche perché oggi è la giornata giusta adesso vi faccio vedere com'è il tempo aspetta ....…. i mi diverti a che guarda a che insegna uh! questa è una macchina guarda si vede si mezi salì non è uno schiaffo e se nel tentativo di superare i suoi disturbi alimentari ritesse l'affetto che ha verso il suo figlio ciao bravo bravo allora sto preparando il pranzo e sto facendo le zucchine con l'uovo volevo fare la frittata ma poi ho cambiato idea e adesso vi faccio vedere il contatto ho preparato un po' di pomodori con fagioli bianchi di spagna e fagioli red kidney e questo qui sarà il nostro pranzo leggero e abbastanza allora eccoci in macchina perché siamo scesi per accompagnare Max dalla psicologa e per il momento come vi avevo detto forse l'altra volta è contenta felice di andare è entusiasta quindi va bene l'importante è che lei senta il potere che che può avere il fatto di parlare con qualcuno e Manuel l'ho portato giù che è uscito con dei suoi amici delle sue amiche e adesso sto andando dalla nonna cioè da mia mamma e da Luca e dalla zia così a trovarli perché tanto appunto mentre Max è la per non stare in giro con loro che comunque fa caldo perché presto sono le due e mezza andiamo a trovare il cuginetto la nonna e la zia la nonna è a casa si la nonna è a casa che ci aspetta per darci dei baci ma si vuoi andare a piedi e 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 vai 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 siamo arrivate prime ripresi Manuel e Max ci siamo diretti verso casa e arrivati a casa poi non ho più filmato perché c'era Maurizio abbiamo parlato e mi sono messa a preparare la cena e quindi siamo stati insieme spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao